ciao a tutti bentornati sul mio canale sono francesca sono un assistente di volo base miami sono appena arrivata in aeroporto sono le 9 di sera la mia presentazione è in verità le 9 45 quindi come al solito se ne anticipo venite con me andiamo semplicemente ad orlando dormiamo lì circa 4 5 ore e poi torniamo a miami salita a bordo oggi arbus 3 21 che sapete il mio preferito tra quelli diciamo più piccolini sono la numero uno quindi responsabile di camina quest'oggi e adesso controllo catering e piu paggiamenti devo aspettare anche tutti sti pannelli queste robe qua comandante mi ha appena detto che il volo di 33 minuti quindi buonissimo come tempo di volo praticamente non faremo niente farò solo un servizio breve durante l'imbarco e poi solo tempo di decollare e sarà già ora di aterrare dentro l'aeroporto di orlando c'è direttamente l'albergo guardate un po vedete gli aerei lì la mia camera è qui mi viene sempre un coccolone quando entro e ci sono le luci accese e la musica perché penso sempre ci sia qualcuno invece loro praticamente lasciano la tv accesa per fare pubblicità niente cadavere dietro la tenda comunque tranquilli pensate che mentre facevamo il check in la ragazza al front desk ci ha detto che l'albergo è sold out quindi al completo e questo albergo ha quasi 500 camere e ha detto che così perché sono stati cancellati tipo 900 voli oggi negli aeroporti al nord tra cui detroit quindi l'albergo è pieno infatti ho fatto subito la battuta mi spiace per voi che vivete al freddo perché noi invece siamo qua il caldo perché comunque vabbè miami fa caldissimo e anche orlando non scherza quindi ci piace orlando quindi adesso mi butto a letto dormo ben quattro ore e mezza e ci vediamo tra qualche ora per tornare a miami sembra vero ma non è appena finita bordo sono le ore 5 e 39 del mattino dai sveglia comodo ho dormito ben quattro ore che mi devo lamentare adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto ieri sera speriamo che il volo sia di nuovo sui 30 minuti appena tornata a miami volo semplice semplice quindi vi ringrazio di aver volato con me anche quest'oggi mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo ciao a tutti